E' accusato di tentata violenza su un minore, il 17enne è arrestato ieri a Sant'Agata. Se la ragazza non avesse acconsentito ad avere rapporti sessuali avrebbe mostrato le sue foto intime alla comunità del web. Non ci sarà il patrocinio del comune per il pride dello stretto. L'operentorio è il sindaco che bolle i commenti omofobi ma non condivide atteggiamenti di estrema ostentazione. Intanto su alcuni posto indaga la polizia postale. Gli agenti delle volanti hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di una stalker che da otto anni perseguitava la sua vittima. Non potrà più avvicinarlo. Torno a far discutere l'avvertenza mai chiusa degli orchestrali del Vittorio Emanuele. Oggi incontro a Palazzo Zanca presente l'onorevole Danilo Lo Giudice, autore di un emendamento all'ARS per il rilancio dell'ente messinese. Il comune di Messina farà parte del cammino di Sant'Antonio, un percorso di fede e cultura già approvato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, diversi comuni della provincia coinvolti. I poliziotti delle volanti hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un pluripregiudicato intento ad asportare da un istituto scolastico termosifoni. Si tratta di Antonino Di Bella, messinese di 33 anni. Domani al Franco Scogli andrà in scena la stracittadina tra CR Messina e città di Messina. Una sfida decisiva per la salvezza, come spiega il capitano bianco scudato, Arcidiacono.